e bentornati e benvenuti qui su go italia andiamo a fare un'altra missione principale mancano veramente pochissime missioni alla fine del dlc i've seen that face before andiamo andiamo vai devo chiamare rid tutto questo vai chiamiamolo e procedura ultimata di spero che il lavoro di farida non ti abbia stancato troppo è ora di intercettare e sostituire i net runner solo all inghitto non abbiamo più accesso al sistema della caron exotics devono averci scoperto aspetta sul serio quindi li abbiamo persi non del tutto sappiamo che erano alla city diretti verso di noi trova un punto strategico vicino all'ingresso di dog town coglierà il segnale dei runner mentre si dirigono all'incontro ma che casino che casino tutto il lavoro sprecato vabbè vabbè andiamo velocemente se mi arriva la macchina la moto c'è sempre macchina perché sull'icona c'è una macchina mi faranno passare senza lottare ok va bene bene ok stabilisci un contatto visivo adesso scansione i veicoli nella zona uno dovrà essere il loro nessuna traccia dell'auto vedo un convoglio scagnozzi di ansen ma dubito che i runner abbiano una scorta continuo a controllare è probabile che siano forze dirette allo stadio niente per ora boh che cazzo no nessuna visuale sui bersagli nessuna visuale sui bersagli c'è una cortese sfasciata che blocca la strada il traffico aumenta è un'auto mediocre non possono essere loro continuiamo a cercare ma magari si no non è il loro stile continua ma va eccoli eccoli non c'è dubbio i runner sono lì dentro hai il segnale Ce l'ho, ora non ci sfuggono più Ottimo lavoro Bene E' ancora presto per l'incontro Andranno ad ammazzare il tempo da qualche parte Ok, sono fermi E sono scesi dall'auto Stanno entrando in un club V, hai via libera Mettiti al lavoro Eh, la moto, la moto, li mortacci Ah, merda Aia Lo sai guidare o sei solo scemo? Sei in posizione? Eccoci qua Cazzo Bella macchina Non sei lì per fare shopping Tutto liscio finora Ho il controllo delle telecamere Ottimo Ultimo testo Al tuo segnale, apriamo le danze Telecamere accese Ricci trasmittente in funzione Pronti Ora, aspettiamo I nostri VIP sono tornati Stanno per salire in auto Concentriamoci Curta Tu l'as vu, non? Il t'es grave En train de me reluquer Au saphir Au moins que ce soit Cette putain de gueule de bois Ça tourne partout Dans tous les sens Tu en penses quoi? De un sein, je veux dire Ok, vi Prendi controllo Ok, anche l'auto La voiture Quelqu'un en a pris le contrôle Eimrix, on l'a là On a besoin d'aide Ok, un second C'est fait Allez J'essaye de reprendre le contrôle Mi rapporto Che succede? Giocano sulla difensiva E ci sanno fare Non c'est fait 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 Je n'arrive pas Oh, però l'avevo quasi attivato Prima Ma va Ma va A cui loro non partecipavano Erano innocenti Io non descriverei così Due criminali professionisti Quelli innocenti Non avrebbero esitato A dirubarti di tutto quello che hai O a piantarti un proiettile nella schiena Abbiamo i travestimenti pronti Ma vi servono ancora i loro codici di accesso Bisogna perquisire Oror Oh, che situazione di merda Non vuoi farmi credere che non hai mai raccolto niente da un cadavere? Sei sicura che abbia lei i codici? Assolutamente Suo fratello trasferisce i suoi ricordi su Drive esterni E' già successo che glieli rubassero Non rischierebbero di perderli Alex, tu lo sapevi Di questa esecuzione Certo che lo sapevo E' una mossa da manuale Non è la mia prima missione, V Una scelta del genere fa parte del gioco Cosa aspettiamo? Eh, non si triggero Che devo fare? Ok Ok Codici trasferiti Ok Guido io V Imprint comportamentale Ora Prova, prova Oh cazzo, la mia voce Fico Un attimo Sono io Ma che che Da sballo, vero? Fai una prova Presentati Oh Questo piccolo miracolo Non si limita a modificare faccia e voce Deve scombinarti gli ormoni Come una droga sintetica Ti dà stimoli Iperspecifici Per cambiare il tuo comportamento Stabilisce una nuova base Tu devi solo dire le parole giuste Ok Ci provo Oror Kessel Chi cazzo vuole saperlo? Niente male All'inizio ti manda fuori di testa Ma poi ti ci abitui Va bene Riordina le idee E poi andiamo Anson ci aspetta Alex, questa sarà La nostra ultima missione insieme Il nostro accordo La Myers ha approvato Missione diplomatica A vita Chiamiamolo prepensionamento Grazie mille, Reed Nervi pre-missione? Un po' Forse Ma? Stai per dire ma? Solo che Più che altro Mi mancava Sei pronto a fare casino? Bene Sembra proprio lei Ok Mettiamoci al lavoro Allo stadio allora Ci vediamo lì Allo stadio allora Allo stadio allora Allo stadio allora ok 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 vado a editare questa altra questa altra missione siamo arrivati quasi alla fine di fare starter è molto 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 importante questa missione poi capirete perché e come sempre un saluto a tutti da Goitalia ciao